Come ultimo video di Code Academy per il 2022, avevo fatto questo video in cui facevo vedere tutte le differenze dei diversi standard del linguaggio di programmazione. Sì, oggi rifaccio la stessa cosa per C++, dove prendo il codice del bowling scritto in C++ fatto in questo video, nello speciale di Code Academy per il nuovo anno 2023, e faccio delle modifiche in cui vi mostro le varie modifiche apportate nel linguaggio di programmazione C++ negli anni, con l'avvento dei nuovi standard. Dunque, in questo video dove parlo della storia di C e di C++, avevo detto che il linguaggio di programmazione C++ era nato nel 1983, ma si è dovuto attendere fino al 1998 per avere il primo standard, C++ 98. Alcuni lo chiamano anche, anzi, C++. Successivamente sono usciti C++ 03, C++ 11 o 11, C++ 14, C++ 17, C++ 20, e, mentre che noi parliamo, stanno facendo lo standard C++ 23, che ancora non è stato del tutto ratificato. Diciamo che C++ 03 lo possiamo vedere come equivalente al C17, ovvero non hanno fatto alcuna modifica alla sintassi del linguaggio, non hanno aggiunto niente, ma quello che hanno fatto è stato quello di sistemare dei bug che ci stavano all'interno delle librerie. Tra i motivi che sono stati fatti nel nuovo standard C++ 03, c'è quella che sancisce, anzi obbliga, che gli implementatori fanno in modo che gli standard vector siano memorizzati in maniera contigua. In passato questa cosa non era stata definita, anche se molte implementazioni di C++ comunque già facevano questa cosa, ovvero trattavano gli standard vector all'interno un po' come se erano degli array dinamici. Qualche anno dopo hanno presentato C++ 11 o C++ 11, che aggiunge al linguaggio tanta di quella roba bella e succulenta, che ovviamente non posso mostrarvi tutto, tuttavia mi focalizzerò su alcune cose. La prima cosa che porta è quello che permette al compilatore di inferire automaticamente i tipi, che prima era una cosa del tutto impensabile. Un'altra cosa carina che porta a questo standard sono le Lambda Function o Anonymous Function, ovvero le funzioni anonime o le funzioni Lambda. Un'altra cosa carina che porta a C++ nell'ambito della programmazione ad oggetti è che, come si fa in Java o in C Sharp, possiamo inizializzare le proprietà degli oggetti dove queste vengono dichiarate. Perché prima questa cosa non si poteva fare, è che quando dovevamo inizializzare i valori delle proprietà in un oggetto in C++ lo si doveva fare solo nel costruttore. Un'altra cosa carina che introduce C++ 11 è una modifica al for che permette di avere l'equivalente del for each che abbiamo in Python oppure in C Sharp. C++ 14 introduce l'inferenza automatica dei tipi, non solo per le variabili come già aveva introdotto C++ 11, ma anche per le funzioni, quindi noi possiamo avere una funzione cui tipo di ritorno viene inferito dal compilatore. C++ 17 porta ovviamente altre cose belle, però quella che vi faccio vedere è quella che possiamo avere un'istruzione di inizializzazione per YIF e per YSWITCH. Come sapete il forro, in C++ o anche in C, ha tre istruzioni, se parlate da un punto e virgola, inizializzazione, controllo e incremento. Possiamo avere un IF o uno switch in cui abbiamo inizializzazione e controllo. Ovviamente l'incremento non serve, tuttavia l'esempio che vi porto è incentrato sugli IF, però diciamo per gli switch è la stessa cosa. C++ 20, che è l'ultimo strato che è stato approvato e che viene implementato nella stragrande maggioranza dei complicatori C++, porta anche lui tante belle cose succulente, alcune di queste cose sono molto tecniche. Una delle cose più importanti diciamo che porta sono le core routines. Le core routines sono delle funzioni il cui stato non viene allocato nello stack, quindi vengono definite funzioni senza stack, o in inglese stackless. Quindi questa cosa cosa significa? Possiamo fare la stessa cosa che facciamo in Python con le funzioni che implementano un generatore, con la parola chiave yield. Se vi ricordate in questo video vi ho fatto vedere come si può fare un piccolo generatore utilizzando la parola chiave yield. Infatti C++ 20 aggiunge questa nuova parola chiave chiamata co-yield che permette di fare la stessa cosa che si fa in Python. Per quanto riguarda le core routines in C++ non ho trovato una documentazione che le spiegavo in maniera chiara e quindi su questa cosa non vi porto un esempio. Adesso avete visto che vi ho messo delle pagine online mentre sto parlando per farvi vedere che questa cosa esiste, ma un esempio non ve l'ho portato, lo volevo fare. Quando iniziano a scrivere documentazione con le mani, no con i piedi, ve lo porterò. Tuttavia se qualcuno di voi sa dove reperire degli esempi scritti in maniera decente, ne scrive nei commenti. Dunque pinguini, prima di cominciare a giochicchiare con il compilatorio io vi ricordo come al solito che se siete nuovi o di ritorno di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per non perdervi gli altri video che porto su questo canale. E inoltre se volete, come al solito, seguitemi su Instagram. E quindi non perdiamo i cinghiacchiere e adesso mi metto a computer e vediamo i standard che si sono sostituiti del tempo del linguaggio di programmazione C++. Bellissimo, adesso andiamo a vedere il codice del bowling che è, diciamo, la base di quello dell'altra volta a cui ho portato delle modifiche. Allora, scrolliamo il codice finché non troviamo la prima modifica che ho fatto. Se vi ricordate nel video che ho fatto quando parlavo di C++ e poi ho fatto vedere il codice del bowling, io utilizzai queste macro per avere questi controlli in una sola riga. Una delle cose belle che ci porta C++ 11 sono le funzioni lambda, quindi le funzioni anonime, che hanno questa sintassi qua. Questa roba qua la lasciamo per dopo. Poi abbiamo i parametri che prende la funzione anonima, ovviamente è anonima, mettiamo nome, freccetta, questa sintassi è molto simile a quella di Python, e qui mettiamo il tipo di ritorno. E poi, nelle parentesi graffe, mettiamo il corpo della funzione. E poi questa funzione fa semplicemente questo controllo. Mettiamo qua un ritorno. Questo controllo è un'espressione logica, quindi restituirà sicuramente un bool, ed ecco perché qua io ho messo come tipo di ritorno bool. Questa roba qua è un tipo, e come voi sapete le funzioni hanno un tipo. Quale è il tipo di questa funzione? Di solito sono espressioni molto lunghe, le metterò qualcuna, per esempio, qua a schermo. Siccome è lunga, e io mi scoccio a scrivere questa roba, quello che faccio io è una cosa molto semplice. Ovvero, dico a C++, utilizzando una nuova caratteristica portata nello standard C++11, di automaticamente inferire il tipo. E infatti questa variabile è di tipo auto, quindi automatico. Ora, anche se noi abbiamo auto come sistema per inferire in C++ i tipi, questa cosa in C++11 non si può utilizzare nelle funzioni come tipo di ritorno, ma neanche come parametro da passare. Infatti, qua, io gliel'ho messo, però questa cosa mi sono dimenticato di scrivere che fa parte di C++17. Perché infatti se io provo a compilare con lo standard 11, a parte che mi dà altri errori, però vedete che qua lui mi dice che non si può fare. Infatti, se io provo a compilare con lo standard 17, me lo fa compilare. Quindi, C++11 porta come tipo per le variabili, quello auto che permette al compilatore di inferirlo durante il processo di compilazione. C++17, che poi vedremo dopo con più calma, permette anche di averlo nelle funzioni, e anche nelle funzioni anonime. Un'altra cosa che porta C++11 è che possiamo fare, come in Java, in C Sharp, inizializzare le proprietà di un oggetto quando noi le definiamo. Non dobbiamo per forza metterle all'interno del costruttore. Infatti, se andate a pescare il codice che avevo fatto precedentemente, io avevo qua qualcosa come this dn uguale a 0. Ah no, ho sbagliato. Una precisazione, scusate, possiamo metterlo nelle parametro delle funzioni da C++14 e no da 17. Piccola correzione. Quindi, rimediamo subito. Mi sono confuso con le versioni. Poi ho scoperto questa cosa nuova di C++. L'ho scoperta oggi, mentre facevo questo video, che non lo sapevo prima. Forse qualcuno di voi già lo sapeva, ma io l'ho scoperto adesso, che alcuni metodi possiamo mettere qua questa chiave const, dopo la lista dei parametri, e questo const dice che questo metodo non cambia lo stato dell'oggetto. E questa cosa è interessante quando, per esempio, abbiamo un API e dice questo metodo cambia roba nell'oggetto, se c'è const significa che l'operazione fatta nell'oggetto non cambia lo stato dell'oggetto, dove mi sembrava opportuno l'ho messo. Andiamo a sottolineare il codice per vedere le altre aggiunte dello standard, soprattutto quello C++11. Ecco, l'inferenza automatica dei tipi si può fare sia con auto che anche con decltype. Decltype dice, praticamente, metti qua come tipo il tipo di queste espressioni. Praticamente sto dicendo, in questo caso, metti F, deve essere dello stesso tipo di I. Ma qui, se non ricordo male, possiamo anche mettere un'espressione, possiamo anche mettere... e dobbiamo mettere qua I+, dovrebbe funzionare allo stesso modo. Mettiamo qua 17. Sì, funziona. Quindi qua sto dicendo che F ed R devono avere lo stesso tipo dell'espressione contenuta qui dentro, che in questo caso è solamente la variante I. Un'altra aggiunta che porta C++11 che già avevo utilizzato nel video precedente, quello che noi in Python o in C Sharp chiameremmo il foreach, però io l'avevo utilizzato in maniera leggermente diversa perché qua avevo messo io frame star, se non ricordo male. Infatti funziona il tutto. Però, anziché mettere frame star, possiamo mettere qua semplicemente un'auto e, visto che ce l'abbiamo, possiamo compilare tranquillamente il codice. Benissimo. Per quanto riguarda Penzo lo start del C++11 credo che ho fatto vedere tutto. esatto. Ora, per quanto riguarda C++14 avevo fatto vedere che possiamo mettere auto nelle funzioni anonimi e anche nei metodi e altre funzioni di C++. Per quanto riguarda C++17 ecco, lo devo andare a pescare. L'esempio che avevo fatto, vediamo se lo trovo, riguarda quello di utilizzare le inizializzazioni all'interno di un if. Si può fare, come vi dicevo poco fa, anche per uno switch. L'esempio che io vi porto qua è sull'if. Ecco qua. Per renderlo meglio, questo if, diciamo, lo spezziamo in questa maniera, qui ho messo una slash in più. Qui c'è il controllo e qui c'è l'inizializzazione. Che è la stessa cosa che facciamo con un for. In un for abbiamo l'inizializzazione, il controllo e poi l'incremento ma nell'if non ci serve l'incremento neanche nello switch ci serve l'incremento però noi qua possiamo avere un'inizializzazione di una variabile e poi in questo caso non la uso però di fatto io posso anche avere qua questa espressione qua in cui io semplicemente stampo la variabile n che viene inizializzata qua e ovviamente lo scopo di questa variabile è solamente all'interno dell'if. Benissimo, pinguini. Io vi ho mostrato queste peculiarità degli standard che sono susseguiti di C++ vi farò trovare questo codice nello stesso GitHub dello speciale di Code Academy ovviamente metterò il link sul primo commento del video adesso possiamo ritornare. Benissimo, pinguini. Io spero che da questo video abbiate imparato un po' come il linguaggio di programmazione C++ se si è evoluto nel tempo. Quando ho finito di registrare lo spezzone a computer mi sono ricordato che avevo dimenticato quindi ho ricordo di aver dimenticato cosa significano quelle parentesi quadre quando si fanno le funzioni lambda o le funzioni anonime poi le parentesi quadre permettono di definire la closure la closure è un concetto che viene dalla programmazione funzionale qual è il contesto che una funzione può vedere per esempio cosa significa questa cosa in Python perché è più facile spiegarla in Python e poi andiamo in C++ significa che se noi abbiamo una funzione definita all'interno di una funzione la funzione interna può vedere le variabili della funzione che la contiene sia una funzione definita con def o con una lambda expression permette di stabilire quale è il contesto delle variabili che quella funzione o quella espressione lambda può vedere tuttavia questa cosa non ci dà controllo perché praticamente in Python tutte le variabili che saranno all'interno di una funzione che contiene a suo volto un'altra funzione sono visibili in C++ all'interno di quelle parentesi quadre possiamo definire quale variabile vogliamo passare quindi all'interno di quelle parentesi quadre possiamo mettere il nome delle variabili che vogliamo che la funzione anonima possa vederla all'esterno oppure se le vogliamo passare tutte ripeto il simbolo uguale scusatemi per questa imprecisazione mi è sfuggito di mente però adesso spero di aver rimediato e quindi io vi ringrazio come al solito per avermi ascoltato fino a questo punto e vi rimando agli altri video di Coda Academy soprattutto lo speciale 7 video in 7 giorni che ho fatto quando diciamo è iniziato il nuovo anno e tra l'altro lo speciale 1024 è in preparazione e quindi pinguini grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima ciao chilo